Musica Partiamo, sono le 21.41, tra pochissimo Montervino in cattedra per raccontarci un po' del Napoli, per andarlo a rivedere. C'è Lorenzo Insigne celebrato dall'entourage, quello vero in questo caso, dal gruppo che ne rappresenta e ne tutela gli interessi. Lorenzo che festeggia la presenza numero 300 con la storia del Napoli. Ah, c'è anche l'area che ci raggiunge. Fatemi vedere prima la classifica aggiornata in quanto a presenza nella storia del Napoli. Il quinto in questa lista di super, grandi, straordinari campioni con Marek che guida a quota 408, poi Bruscolotti, Giuliano Moreno-Ferrario e proprio Lorenzo Insigne che si insedia stabilmente tra i grandissimi della storia del club. Chissà se supererà Moreno-Ferrario. Chissà se supererà Moreno-Ferrario. Sicuramente se supererà Moreno-Ferrario è perché può superare Amsic. Supererà Moreno-Ferrario, bravo. Perciò dico, vabbè, la mia era una battuta, no? Sì, sì, no, perché se hai qualcosa ne parli tra poco. Mancano cinque partite. Brutta questa, questa è stata una minaccia. Se sei qualcosa parli tra poco. Sì, ne parli tra poco. Si parli tra un po', dopo una piccola piccola pausa. Prima di Montervino, no, che no, no. No, non devo dire. Prima fai il provocatore, prima lanci l'amo. No, speriamo che superi Ferrari. C'è Lorenzo che mette nella gabbia l'Aquila ed è successo contro la Lazio. E poi nel nome di Diego Insigne fa il capitano e trascina il Napoli, ma non c'è il rinnovo. Cioè se volevi arrivare a questo perché vuoi parlarmi e darmi notizie, farlo. No, non ti devo dire niente perché non è cambiato niente rispetto a quello che ci siamo detti. No, ma anche nell'ultimo mese non c'è mai stato un incontro, non c'è un appuntamento fissato. C'è la volontà di finire questa stagione e di incontrarsi. Se sono fiori, fioriranno, se no, addio. Voleva dire altro. Non c'è un pappinato, voleva dire altro e si è fermato. Si saluteranno, eventualmente sarebbe un peccato perdere. Ma non si possono salutare. Ma dai, di che parliamo? Io capisco le motivazioni e ci siamo confrontati. Ma non si possono salutare. No, io dico sarebbe un peccato per quello che... Ma non è un peccato che nessuno commette. Sarebbe un peccato capitale del calcio. Posso dire una cosa che sembrerà strana? No, io non so. Qualche settimana fa si parlava e si diceva speriamo che non si arrivi all'europeo perché parlarne dopo l'europeo potrebbe essere tragico per entrambe le parti. Io sono convinto invece che parlarne dopo l'europeo darà semplicemente più forza a Lorenzo Insigne nel dire a De Laurentiis ecco perché io voglio rimanere nel Napoli, anche in nazionale. Faccio la differenza, ma non mi interessano due milioni in più, un milione e mezzo in più, cinque milioni in più, non lo so, non voglio parlare di cifre, ma mi interessa restare a vita nel Napoli. Punto. Ora la cifra mettila a te. Io sono convinto che succederà questo perché Lorenzo sarà un sicuro protagonista nell'europeo e il far bene non sarà l'obiettivo di Lorenzo, quello di cambiare squadra e fare a chi offre di più, ma semplicemente dare ancora per l'ennesima volta una conferma della sua professionalità e del suo attaccamento all'altro. Alfred, può starci questa chiave di lettura? Ci sta, è una chiave di lettura lucida e anche illuminata. Io spero che si faccia prima degli europei, non perché non si è d'accordo con lui, ma perché comunque per me dovrebbe essere un finto problema, cioè io qui non sto parlando neanche della cifra, la cifra capisco la pandemia o il pandemonio, ma devi solo firmare. Ho capito, però non credo in quello che dice Francesco, io voglio restare a vita e metti tu la cifra. No. Mi spiace. Allora sai cosa succede dopo che ti dico cosa succede? Che prima degli europei si incontri che vabbè tutto a posto, firmiamo dopo l'europeo, tutto a posto. L'europeo fa come deve andare, il tutto a posto detto prima dell'europeo non è il tutto a posto detto l'europeo. No, dipende, se tu stringi la mano, Loretto da parte, Presidente Amata, lo sai. Mi sembra che anche con Gattuso ci sia stato, ormai devono solo firmare. Facciamo un discorso di mercato e abbiamo il numero uno qua nel nostro studio. Se Di Bala, che ha lo stesso contratto e scadenza di Lorenzo Insigne, sta discutendo con la Juventus da un anno e non trova un accordo economico soprattutto, oggi 27 di aprile, manca meno di un mese alla fine della stagione e il Napoli neanche ci ha provato negli ultimi mesi, non dica adesso dopo aver trovato un tacito accordo per portare al termine questa stagione, non si è mai degnato di chiamare il giocatore e dire... Perché non lo deve chiamare il Napoli il giocatore, no, ne vogliamo parlare. No, e per quale motivo? Allora, posso dire una cosa? Io credo che sia una tempesta in un micchier d'acqua. Hai detto una grande verità, è un falso problema. Ragazzi, perché noi stiamo al di fuori, come operatori della comunicazione, creando un castello che non esiste. Perché? 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 Ci sono due volontà che si incontrano. È chiaro che si incontrano e dovranno incontrarsi nel nome anche di una proposta economica che possa soddisfare le pretese legittime, super legittime, è la luce anche di quello che... Io perciò dico dopo l'Europeo, perché saranno ancora più super legittime. Allora, posso assicurare che nell'idea del Napoli, un Napoli ad oggi senza Lorenzi, sì, non è previsto. Perciò dico io una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché voi pensate che si possa arrivare ad una rottura se il Napoli è insieme. Ragazzi, ma siamo fuori dalla realtà. Io volevo aggiungere soltanto una cosa. Quando mi hai chiesto un mese e mezzo o due mesi fa, ti avevo dato percentuali che al 5% erano come sensazioni più verso il no che verso il sì. Io adesso quelle percentuali... Le erano cellate. E mi spiego sul fatto per cui non si possa fare un parallelo con Dybala. Dybala è un sopportato. Dybala, la Juve l'aveva ceduto nel settembre del 2019. Se Dybala avesse preso l'aereo per andare a Manchester, sì, a Londra, a sede del Manchester, per firmare, avrebbero fatto uno scambio e si è messo di traverso. Da quel momento in poi Dybala e la Juve sono separati in casa, pur avendo fatto Dybala un grande campionato, l'ultimo, con Sarri, al punto di essere stato proclamato miglior calciatore della Serie A 2019-2020. Alla Juve questa cosa qui non è andata allo stesso giù, nel senso che non ha cambiato idea. Per cui adesso se rinnovano, rinnovano per una forzatura, perché va via Ronaldo, ti faccio un esempio. Ma non rinnovano perché c'è una convinzione. La convinzione quando tu quasi due anni fa l'avevi... Insigne, per me, è una storia a parte. Se insigne non esiste, la cifra la devi alzare. Dalva, io so cosa ti sta passando nella testa. So perché tu pensi, non pensatela così facile, perché poi si arriva... Anche l'orgoglio di una persona... Però io ti dico, te lo dico per esperienza, poi arrivi nello stretto che ti devi sedere, devi prendere una decisione e non è mai facile dire vado via. Non è mai facile. Ma poi stiamo facendo un discorso di un Lorenzo innamorato di Napoli, del Napoli, di questa fascia, di un sogno che lui sta coltivando da bambino. Ragazzi, perciò il paragonico di Bale è inesistente, perché lì c'è un rapporto solo di carattere professionale, con Lorenzo e il Napoli c'è un rapporto professionale, ma oltre la professione. Su questo siamo tutti. A chiudere, caro, è perfetto. Secondo me il ragionamento è molto semplice. C'è un club in questo momento in Europa disposto a investire 100 milioni su Insigne? Perché questa è la cifra, secondo me, perché ovviamente se vuoi acquistare Insigne devi dare dei soldi al Napoli, secondo me sono 100 milioni. La stima che ho nei riguardi del procuratore, l'ho certificata qui un po' di volte, non ho capito quella storia del Milan, non l'ho capita. Per me quella è stata una roba che su Marte, se vai su Marte forse trovi cose più verosimili, io non l'avrei fatta neanche uscire. E lo dico con la stima che ho nei riguardi del suo agente. Ma per me è una partita che non esiste. Devi andare domani mattina in automatico, secondo me non ha senso neanche dire rinviare. Rinviare cosa? Ha rinviato Donnarumma, a proposito. Adesso Donnarumma per tutti è uno che può andare via, ma Donnarumma aveva deciso di non firmare a settembre. Alfrido lo sta dicendo. Quando c'era la Juve, io ho preso più insulti. Adesso vediamo come finisce perché le cose cambiano la sera mattina. Io ho preso più insulti per questa storia che per qualsiasi altra storia. Insigne, è un libro a parte, è un'enciclopedia. Io capisco, Salvatore, ma non capisco il fatto che si debba fare un ragionamento adesso sul quando, come, dove, perché, vediamo. devi solo fare così, devi firmare, gli devi dare 6 milioni, gli devi dare 6 milioni. Perché gli devi dare 4, lascia perdere i bond. Gli devi dare i soldi che certifichino quello che rappresenta. Ma ti garantisco, Alfredo, sono straconvinto che Insigne firmerà anche a meno. Perché è così. Io ho fatto un esempio. No, 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 è chiaro che è un giocatore che merita quei soldi, perché uno che fa 17 gol questa... Alfredo ha fatto un esempio che rispecchia la realtà. E certo. Allora, se non glieli dai, tutti questi sogni belli che tu hai fatto, non ci saranno. Tu pensi che Insigne a 5 milioni non firmi? Stai parlando da 5 più bonus. Non devi partire, non devi partire da adesso, stiamo facendo veramente, sembravi commercialisti di Insigne. Non devi partire da 3,5 più. No, ma certo che no, dai, su, ma certo che no. Ma è ovvio, ma è ovvio. Ma è ovvio, ma è ovvio. Ma è ovvio. Ma è una sacrosanta cosa, fermandosi sulle cifre, perché poi... Ma per quale motivo un giocatore che guadagna 4 milioni e mezzo ha fatto 300 partiti? E me lo dice a me. Gio a 7, devi partire da 3,5. Ma è fuori logica. Lascia stare che per il gioco delle parti funziona così. C'è stato il Covid, c'è stato l'acqua. No, io adesso, nel mio piccolo... Ma è legittimo, o non è legittimo, che una società, pure di fronte ad un patrimonio straordinario di talento, di classe, di storia, possa iniziare a fare un discorso del tipo, però voglio non discordare, è stato Covid, è così. Ma è legittimo il gioco delle parti. Cioè, io non mi scandalizzo. Nel mio piccolo, voglio fare... Poi, alla fine, si fa il passavano. Da grande vorrei fare il direttore, quindi cerco... Non fare il fenomeno, perché sembra che stessi facendo l'apprendimento. Siamo nel 2021, quando sarai direttore del Napoli? No, no, io sono direttore, molto contento direttore del Napoli. Allora, Salvatore, risposto... Tanto saremmo tutti vivi e tutti a canale. Un saluto, questo è poco ma sicuro. La chiediamo? Cosa stavi dicendo? Quest'anno devi vincere il camionale. No, dicevo che sarà motivo di trattativa l'anno prossimo, pur sperando che la mia squadra vincerà il campionale. Hai giocatori che hanno fatto benissimo. Andate lì, diremo, siamo nei professionisti, costa di più, il Covid, dobbiamo abbassare, dobbiamo fare... E quelli mi chiedono, ma sei pazzo? Abbiamo vinto il campionale, ho fatto 20 gol. Tu mi chiedi... Ma è normale, è la normalità, dai. È chiaro. Allora, andiamo a che lo decide. Certo. Grazie. Facci vedere un po' di tattica, dai. Ragazzi, grazie per questo focus. Su Insigne siamo arrivati finalmente, siamo tornati al campo con il Napoli che ha trovato il gol in 21 partite consecutive in Serie A, cosa che non accadeva dal 1930 e dal più vicino 1975 quando c'era una squadra che dominava in Italia. Allora, il focus, caro Ciccio, cosa ci proponi? Ma, semplicemente per andare un po' non contro a quello che diceva Salvatore prima, ma per far vedere magari nel dettaglio come il bel Tikitaka di Sarri sicuramente con Gattuso non è il focus principale, anche se il Napoli paleggia bene nella metà campo avversaria. Io di quello parlavo, non di Tikitaka. Lo avevo capito. Palleggia molto bene e secondo me la partita dove ha paleggiato meglio nella metà campo avversaria è stata contro l'Inter. Il Napoli è arrivato molto spesso al limite dell'aria e poi sembrava quasi una partita di palla a nuoto dove giravi attorno all'aria per cercare quella verticalizzazione che in uno spazio così stretto molto spesso non ti si riesce, soprattutto quando hai quel tipo di difensore. Da qui tutte le difficoltà di Osimeni in mezzo a quei tre. Era impossibile. Ma poi le ha avute anche Mertens nonostante abbia fatto quell'assist magnifico per Zelischi, però la difficoltà c'è quando hai tre difensori così forti in poco spazio. Cosa è successo nelle partite successive, Lazio e Torino? Che il Napoli innanzitutto ha sbloccato immediatamente il risultato e ha trovato nella verticalità lunga la capacità di trovare gol in maniera facile e lo andiamo a vedere con queste cinque clip che abbiamo tagliato proprio per far vedere come il Napoli di queste ultime due partite secondo me è stato bravissimo nella verticalizzazione veloce. Attenzione a questa parola, verticalizzazione veloce. Andiamo avanti, grazie Salvatore, così partiamo. Questa è la partita con la Lazio e siamo al decimo minuto. Già il Napoli è su 1-0. Guardate qui, su una ripartenza della Lazio c'è la riconquista e da questo momento in poi guardate come in maniera veloce il Napoli verticalizza e arriva al gol del 2-0. Questo qua cerchiato è Marucic. Guardate la difesa della Lazio come alta e da quella parte non c'è Radu che è irritato. Qui fanno a giocare straordinaria Mertens, però la verticalizzazione, quindi la verticalità che dà il Napoli in maniera così veloce porta a far rincorrere ai difensori avversari. Come diceva Dario nelle ultime settimane, quando un difensore lo fai correre guardando la sua porta è sempre un pericolo. E quando il Napoli si difende più basso e ha la capacità di attaccare questo tipo di profondità fa sempre male. Se andiamo avanti... Però come dicevi tu prima, quando riesce a giocare così è meglio avere Osimen. Ma adesso lo vedremo ancora. Andiamo alla seconda azione. Guardate in questa azione perché io parlo e dico meglio Osimen rispetto a Mertens. Guardate Doveres, c'è un rinvio ma a destra un po' di... Guardate come è altra difesa e guardate questo qua cerchiato qui in basso a destra è Mertens. Nonostante acceleri, nonostante c'è il ritorno di tanti difensori, poi si arriva perché qui fa una giocata straordinaria in signe, ma la verità è che non si è scelto di andare da Mertens perché non ha quella capacità di attaccare la profondità. Mertens lo devi far arrivare lì davanti e giocare nello stretto perché è un campione. Apro e chiudo parentesi, se Stocco l'avesse fatto Cristiano Ronaldo Messi saremmo ancora parlando una settimana. Staremmo ancora parlando. Andiamo avanti e pensiamo alla partita invece con il Torino. Guardate qui immediatamente, guardate Osimen, guardate com'è alta la difesa del Torino, quello è Bremer e qui Osimen con un culù riesce a prendergli praticamente su uno scatto 40 metri, 50 metri. Che veloce eh! Non lo so, un culù non è lento, Bremer è più veloce di un culù, però qua Osimen ha fatto capire che quando c'è lo spazio lui è un animale. Allora, addirittura con tutto il rispetto, gli Usai, dei piedi di Usai che non sono piedi educati, quelli di Usai, lo ha servito due o tre volte sulla sinistra. Alfredo, un altro da segnare alla scuola calcio. Beh, facciamo un pacchetto unico. A sinistra non hai piedi educati. Ci sta, ci sta. Vediamola. A destra, aprendo a destra. Assolutamente. Andava meglio. La quarta clip, così andiamo ancora a lavorare e a vedere come si lavora nell'attacco alla profondità. Questo è il gol che fa Osimen. Ragazzi, è clamoroso. Vedete che con questa palla ha 75 metri dal campo, dalla porta avversaria. E guardate quanti metri riesce a prendere Ancolu. Sembra facile. Poi, lasciamo stare che qua è stato fortunato nel rimpallo e ha fatto gol. Ma qua ci sono 70 metri e siamo al dodicesimo minuto. Credito. Se al Napoli con Osimen in campo gli lasci questa proposta... Lì Mertens viene raddoppiato da alcuni. Ma non ci arriva. Non parte proprio. Salvatore, non ci arriva proprio. Non sono qualità di Mertens. Esatto. E la verità è che il Napoli con questo tipo di atteggiamento fa più gol. Con il palleggio, soprattutto se non c'è dentro Fabiano. Perché quando c'è Fabiano e la palleggi, la tieni, la muovi, anche in maniera a volte lenta e prevedibile, ma la tiene sempre lui da parte. Quando non hai Fabiano e quindi non c'è quella capacità tecnica per poter palleggiare, devi verticalizzare immediatamente. Qua su un rinvio si è verticalizzato. Però la verità, sai perché rinvichi? Perché sai che c'è quello davanti. Altrimenti non l'avresti mai rinviata questa parla. È vero. Mi voglio tornare quando prima ho detto una verticalità, una verticalizzazione veloce. Guardate invece cosa succede se non si verticalizza con l'ultima clip in maniera veloce. Guardate cosa succede. Qui c'è una riconquista di Isai, palla a Bakayoko, su Demme che scarica ancora su Insigne e Demme, ancora qui, scarico sulla destra, su Di Lorenzo, guardate come si traccheggia. Qui si dà il tempo al torino di riposizionare. Qui Di Lorenzo deve giocare palla, la deve muovere. Perché la verità è che se non giochi palla veloce e dà la possibilità di farti raddoppiare, hai sette giocatori davanti. Prendi una ripartenza immediata e guardate l'errore che succede qui. Tutti e due i difensori, stesso movimento, come fecero. Qui Cattuso si arrabbia non per l'errore ma perché Politano si ferma. Ma Salvato, sai perché? Il 10 punti del secondo tempo il Napoli non mi è piaciuto come è entrato in campo. È sempre così. L'atteggiamento dopo l'intervallo sicuramente non è stato deciso. Però la verità, sai qual è stata qui? Che Di Lorenzo se accelera, non traccheggiare, vai avanti in maniera veloce. Che se vai avanti con la qualità e la forza che hai dei tuoi giocatori, riesce ancora a fermare. Ma influisce mentalmente che stai 2-0 e quindi… L'atteggiamento di Politano dimostra questo. Sei 2-0, ti fermi come se tutto ti è dovuto e non va sicuramente bene. Alla luce di tutto quello che è successo nel corso di questa stagione e inserendo anche il momento negativo, io credo che questa squadra comunque non sia da scudetto. L'Inter è superiore. Però con due innesti, continuando questo cammino, l'anno prossimo il Napoli potrebbe… Guarda, Carmine, io all'inizio della stagione ho detto che l'Inter per me era la favorita per lo scudetto. Però ho anche detto che il Napoli poteva essere la serie antagonista dell'Inter. Esatto. E in effetti così potrebbe essere. Non ci stanno 11 punti di distacco. Ce ne stanno 4-5-6. Però secondo me la differenza c'è. Però quando sei poi a 4-5-6 cosa succede? Non dà la possibilità all'altro di vivere la domenica tranquilla. E poi nell'esperienza e nell'entusiasmo poi voglio… E magari con un episodio favorevole. Non so se vediamo adesso le immagini del Cagliari per far capire quello che ci aspetta. Magari sai che facciamo dopo la pubblicità una considerazione ti faccio. Alla fine quali erano le aspettative iniziali presosi men? Si farà a scuola, l'ingresso del ragazzo sarà graduale, sarà centellinato e con Mertens avrà una spalla forte. Mi pare che siamo arrivati a fine stagione con il Napoli che ha il tema tattico e le scelte ormai effettuate. E Osimen che è rinunciabile. Poi è chiaro che una partita che tu aggredisci e la porti dalla tua parte, questo tema… Non c'è cosa più facile per il Napoli. Arrivi nel tuo territorio. A me dispiace deludere forse Alfredo, però ritorniamo al tema iniziale. Cioè è assurdo che poi Gattuso debba andare via quando c'è questa situazione che va bene. Scherzavo Alfredo. Non devo dire di me, ma è un argomento sicuro. Scherzavo, scherzavo. Poi dobbiamo parlare di Spalletti. Voi fortemente, vabbè, poi Spalletti che è stato anche allenatore di Montegui. È quello che volevo dire. Va bene, grazie Ciccio. Chiaramente anche spazio al Cagliari subito dopo la pubblicità. E questo sondaggio che riproponiamo, che ha avuto grandissima adesione e partecipazione da parte dei nostri amici, a chi conviene, addio anche con la Champions, vediamo. A chi conviene, no, deve rinnovare. Ora diventa un urlo. Tanto è vero che hashtag contrari si sono trasformati nel giro di pochissime settimane in hashtag favorito. Sì, giusto, separarsi le due opzioni. Ci fermiamo. Break pubblicitario, di rientro per approfondire questo tema, per ritornare sul calendario, ragazzi, perché va analizzato in maniera incrociata e lo faremo anche con l'ottica del Benevento, che rischia grosso, rischia seriamente la retrocessione. Pubblicità e ripartiamo. Eccoci, siamo di nuovo in onda, 22,7 minuti, ultimo blocco di Ne Parliamo il lunedì. Allora, a chi conviene, addio anche con la Champions per Rino Gattuso. Ci sono margini per i quali De Laurentiis, che è comunque uno in grado di stupire sempre, di recuperare anche posizioni che sembravano compromesse. Quante volte lo abbiamo visto nella storia di questo Napoli? Ci sono margini per ritornare sulla questione e convincere Gattuso, che secondo me sta anche godendo di questo Napoli, ragazzi. Ma scusate, è una creatura così bella. Io credo che in questo momento la sua autostima sia elevatissima ed è giusto che sia così, però poi non lo so. Dai, ci sono girate troppo le scatole per quello che è successo, ragazzi. Alfredo, anche per un aspetto patriottico, lo conosce meglio di noi, no? No, nel senso che sono della stessa regione. No, infatti che mi hai dato una patente. No, nel senso che se fosse stato pugliese avrei detto... Stai sorridendo, hai difficoltà di ripristinare un minimo di ordine. L'aspetto patriottico. E dai, siccome c'è, no, no, a parte gli scherzi, sono detto perché parlavo della Puglia dove ci stanno tantissime province, invece lì voglio dire c'è un'unione tra voi. Voglio arrivare, e te lo dico io a che voglio arrivare. Te lo dico io a che voglio arrivare, lo sai bene a cosa voglio arrivare. A cosa? E te lo dico, lui è un testa dura come te, dai. E quando dice testa... Allora, è uno che quando dice testa, croce non esce. Ti volevo ricordare una cosa, non siamo di Bassano del Grappe. Premesso questo, ci sta quello che tu dici, però c'è stata una... Ma è una dota apprezzabile? È una cosa che ha anche dei limiti, perché comunque non è che puoi sempre... È apprezzabilista. Uno deve fare anche autocritica, ha anche dei limiti questa cosa. Assolutamente. Però in questo caso non si tratta secondo me di avere i limiti, c'è stata una scelta della società, è una cosa digerita male. Per me non ci sono margini, per me due minuti dopo deve andare via. Poi, se cambierai idea che tu... Io sinceramente non lo so, al momento se me lo chiedi la vedo dura. Vedo anche che la Fiorentina, che l'ha cercato un mese e mezzo fa prima degli altri, gli deve dare delle garanzie, altrimenti anche a Firenze, per come ha fatto lui, non ci va se non gli danno... Ma è certo, come hai detto tu, Vlaovic se ne va. Milenkovic scadenza tra un anno e due mesi, Pezzella scade, Dragosca scadenza, Riberino si capisce, c'è un sacco di situazioni da capire anche lì, per cui... Io, Alfredo, dell'opinione è un aspetto importante che è legato al contratto, alle clausole che sono previsti in questo contratto, Gattuso non ama quei vincoli che sono previsti invece nei contratti dei laurenti. Sì, però lì si erano messi d'accordo nella prehistoria, ormai questa è prehistoria. Tu dici che quello non c'entra... No, non posso dire che ormai questa è prehistoria, però un punto d'accordo l'avevano a fare, le clausole l'avevano a fare. No, no, scusami Carlo, poi ti lascio la parola perché io non critico il lavoro mai dei colleghi, però Eura Gattuso avrà il Napoli, sinceramente mi sembra un po' forzato. No, io adesso questa cosa qui l'ho detta all'inizio, non mi risulta, non è questa la verità, non voglio commentare giudicative. No, no, è neanche io. Però se mi chiede, ti dico che la situazione è esattamente quella di un mese e mezzo fa con una forma più dolce. Certo. Punto. Io credo che... Poi lui a Firenze, secondo me, se gli danno le garanzie ci va, se non gli danno le garanzie non ci va, in questo momento c'è anche il discorso De Zerbi che per me fa questa esperienza all'estero, se reciderà il cordone umbilicale col Sassuolo perché c'è un grande rapporto vero, sincero, c'è da uomo puro qual è De Zerbi e anche De Zerbi l'ha stato cercato dalla Fiorentina. L'unica certezza in questo giro per me è Sarri, che non è più un federato di Fatima, è una roba che va avanti davvero da gennaio, l'abbiamo raccontata tante volte, che è il candidato numero uno per la Roma, è italiano che può essere il sostituto di De Zerbi al Sassuolo. No, a me fa un passione. Voglio chiudere il discorso su questo argomento perché non c'è nessuna apertura per quanto mi riguarda, per l'amor di Dio, è messa in tre virgolette proprio, è categorico per informazioni miei, forse non c'è nessuna apertura né di Gattuso nei confronti di Laurentiis né di Laurentiis nei confronti di Gattuso. Il rapporto, lo ha raccontato bene Alfredo Pino, il rapporto dei due è un rapporto civile tra un proprietario di un'azienda come il Napoli e un dipendente dell'azienda come Gattuso, un rapporto che tengono in piedi con Gattuso che ha uno sfizio particolare che ho raccontato due mesi fa in questo studio, quello di lasciare in dote a De Laurentiis il Napoli in Champions League, ovvero aver raggiunto, bravo Salvatore, aver raggiunto l'obiettivo iniziale. Le Stati si separeranno, voglio dire, ma è una separazione, mi viene da dire, consensuale, nel senso che ormai non si farà nessuna marcia indietro, anche se il Napoli dovesse vincere 5 a 0 con il Cagli, 8 a 0 con la Fiorentina, 10 a 0 con la Spezia, per quanto mi riguarda e per quanto ne so io, non cambia niente. Tu che sei l'uomo dei detti, Giorgio se ne vuole andare. Io non voglio andare, questa è la questione. Però con grande civiltà, voglio dire, con grande civiltà dei rapporti, oggi il Napoli è in silenzio stampa, non escludo che il silenzio stampa possa terminare l'ultima partita di campionato con una conferenza stampa magari anche congiunta. Vi saluto. E l'Aurendis Gattu, di commiato, all'Abbinista. 27 aprile, l'ha detto, perché poi le cose vanno detto prima. Io, però, leggendo questo titolo qua, essendo stato nell'ultimo fine settimana un po' al nord c'era un po' di club importanti, quello... Fatemi al nord club importanti, le dico io. Tutti. Fatti i figli. Perché è incredibile, ragazzi. Ma sempre per una questione patriottica, vuole aiutarti. No, questa apertura, secondo me, questa testata la dà proprio perché, come diceva prima Alfredo, c'è stato anche un interesse della Fiorentina per De Zerbi. Quindi si è pensata a una frenata di Gattuso alla Fiorentina perché ci poteva essere una piccola riapertura verso il Napoli. Quindi probabilmente la lettura che viene data è questa qua. Allora adesso voglio sparegliare le carte, faccio una domanda ad Alfredo. Alfredo, nella peggiore delle ipotesi, come è oggi la sua azione, Gattuso potrebbe anche restare fermo per mantenere fede a quella che è la sua idea? Sì, però rispetto all'altra volta sarebbe, la considerebbe un'ingiustizia. Perfetto, però è un'ipotesi che estrema razio esiste? Sì, esiste come estrema razio. Fermo restando che c'è anche l'estero, ma all'estero lui andrebbe... La Fiorentina, come diceva giustamente il Capitano, è un discorso che ha chiamato Gattuso e ha espresso delle perplessità che poi ha chiamato De Zerbi, avevano chiamato Iurici, poi chiama Carmine, poi chiama Alfredo, ma se non risolvi questi problemi... Lo sai il grande rammarico quale può essere? Uno solo, che Gattuso sa il materiale umano che ha a disposizione, sia dal punto di vista E' un tecnico che dal punto di vista è proprio umano. Io vado oltre. Due, sa anche dove questo Napoli può migliorare per andarsi a giocare il titolo. E' chiaro ed evidente che una soluzione post-Napoli non ti garantirebbe la qualità tecnica... Sarebbe una diminuzione. Questo è l'unico rammarico che in questo momento può tormentare l'animo di Gattuso. Vado oltre. Ma non cambia niente. Ma c'è anche la squadra. Ma non cambia niente. Vado oltre, per me con due innesti questo Napoli da grande ciclo... Eh vedi, dicevamo la stessa cosa Alfredo. E su questo io non ho... Ma cosa cambia questo Alfredo? No, non cambia nulla. Ah diciamolo, no perché... Però poi i programmi della società quali sarebbero? Anche su questo bisogna discutere eh. No però certo, se per qualsiasi allenatore prendi, gli dai mai in mano un giocattolino di questi con tutto il rispetto, fa bene. Non lo so, ho soltanto un dubbio, un sospetto, che ripartire da zero tutte le volte è difficile. Non è esatto. Per me Spalletti è un grande allenatore, però sulla compatibilità di Spalletti e dell'Aurentis extra campi ho dei dubbi molto grandi. Allora, se proprio lo vogliamo intendere in quest'argomento diciamo che diventa difficile trovare, anche perché parliamo di una persona dal carattere forte, della persona determinale... Spalletti, però, 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 però posso raccontare un aneddoto? Sì, certo. Io un anno scrissi una notizia che, per dirti il carattere di Spalletti, con il quale ho un discreto rapporto, ho scritto una notizia che lui era lo Zenit di San Pietroburgo, che lo aveva cercato l'Inter. E mi arriva una telefonata con un numero privato, lui mi chiamava da San Pietroburgo, e si presenta dicendomi sono Luciano Spalletti, io devo querelarti, e ho detto guarda, se questo è uno scherzo, se tu sei Luciano Spalletti, io gli ho detto una cosa che non posso ripetere in tv, butta giù, butto giù, mi richiama dopo due minuti con il numero di San Pietroburgo e mi dice, hai visto? E lui in pratica se l'era presa perché avevo scritto che lui era nella lista dell'Inter, mica avevo scritto che stava andando al Canicattì con tutti i rispetto, per dirti caratterialmente... L'ho convinto, perché lo conosco dai tempi di Empoli, scusami, ma tu mi quereli per una cosa che... se mi quereli l'hai già persa, nel senso che il tribunale ti sorride, perché soltanto... ma è destabilizzante... ma cosa? Io ti ho detto che piace all'Inter, non che vai all'Inter. Allora... Tre anni dopo, quattro anni dopo sarebbe andata lì... L'aneddoto di Monte mi interessa di dirlo, poi vorrei capire... No, e poi voglio mettere pure... Vorrei capire cosa c'è anche di concreto nelle voci che abbiamo... C'è un gradimento... C'è un gradimento... E' successa una cosa molto simile, proprio l'anno che lui era allo Zenit anche con me, perché mi chiamò per chiedermi del pocio, di Lavezzi, come era come ragazzo e roba varia, dopo qualche, il giorno dopo sono un baterato, uscì la notizia sui siti e mi chiamò incazzato scusate il termine, come una iena perché mi disse, ma no non si dico non so chi l'abbia detto questa cosa quindi è uno molto di impatto, è uno molto, che se è una cosa che vai a genio, ti prende richiamo io ho un grandissimo rapporto io siccome non conosco Spalletti, per me è perfetto per il Nardi attività commerciali tipo, non so, ristoranti c'è la a diventare come allora, a quanto pare tutti quelli hanno avuto problemi che io personalmente voglio dire un attimo solo voglio dire una cosa simpatica così come da sempre faccio il provocatore così come mi ha individuato Alfredo, chi ha avuto il piacere di vedere la serie speravo di morire prima di Francesco Totti se quella è vera, è storia vera lì ti rendi conto di chi è questo signore che ha alle spalle l'ha vinto male mi pare io non l'ho vista che sarà anche un grande allenatore ma si dice a Napoli già a vacante andiamo bene carichi figurati se arriva questo che con la stampa Alfredo per scrivergli una cosa che stava nell'area figurati che cosa succede io l'ho avuto come allenatore quindi mi posso permettere mi posso permettere di dire che lo conosco bene perché ho ancora oggi un grande rapporto anche se ci sentiamo poco è uomo è uno che non pensare che potrebbe avere tanti problemi con i giornalisti perché è uno che se ti deve dire una cosa non te la manda a dire scusa lui va a prendere i giornalisti sotto casa lo va a prendere e poi non è un caso non è un caso è un limite però non è un caso che tutte le patate bollenti del calcio italiano di alcuni giocatori le ha dovute risolvere lui pagando poi a caro prezzo perché anche quella di Totti ad Ancona ad Ancona ad Ancona è successo con un calciatore che tu conoscerai ma Totti sarebbe stato impossibile non farà cadere allora ad Ancona il giocatore più importante era Pietro Parente e lui l'ha preso tra virgolette attaccato al muro va alla Roma e discute prima con Cassano e poi con Totti va all'Inter e mandano via Icardi quindi è uno che le questioni se le deve prendere non ha problemi di personalità se le prende se le prende e probabilmente uno che si pide una questione vera con De Laurenti ci va ogni tanto Salvatore e questo potrebbe essere un allenatore se ogni giorno una volta poi dipende ma guarda ho l'impressione che la scadenza sarebbe bisettimanale almeno un grande rischio poi dipende sempre dai risultati sono delle persone dalle scintille ma per quello che ha detto Alfredo dobbiamo metterci bodyguard sotto casa il fatto che va a prendere i giornalisti a casa ti consiglio di andare a vedere un video ma perché voi lo date per 100 sparletti sulla paghera ecco qui volevo chiedervi un video di 5-6 anni fa che ha fatto tendenza è diventato virale su Youtube in una conferenza stampa ai tempi della Roma un nostro collega gli fa una domanda che lui non gradisce va a sbattere 4-5 volte la testa ah sì sì là lo farò per dirti è una persona vera è una persona leale però lui su certe cose fa dei film allora scusate ragazzi perché dobbiamo andare avanti fattibilità interesse quanto concreto quanto forte e quante chance ci sono perché ora abbiamo raccontato molte cose io credo che questo ciclo che questo filotto Gattuso questa brillantezza imporrà una cosa che devi prendere un allenatore con tutti rispetto per gli allenatori accostati al Napoli quelli giovani e devi lavorarci e devi prendere un allenatore è un profilo che sta dentro un grande allenatore che tu vuoi prendere che abbia un'esperienza internazionale ecco e che ci sta come profilo poi il resto lo vedremo come dobbiamo vedere Gattuso io ripeto oggi Sarri è l'unica situazione che sta andando avanti a me fa impazzire Sarri ragazzi perché venne a Napoli quando il Napoli era fuori da tutto disse ragazzi da questo riparto e farà la stessa cosa a Roma mi auguro che una squadra italiana possa vincere l'Europa League ma la vedo per come stanno giocando abbastanza difficile arriva lì vedete da dove siamo partiti questa è anche la conferma perdonami che la cosa è finita il 23-24 gennaio quando De Laurenti si chiamò Sarri perché poi noi negli ultimi mesi dobbiamo dirlo anche nell'ultima settimana abbiamo assistito a certezze torna Sarri è sicuro me l'ha detto l'ho visto il ristorante ha preso casa non era vero dobbiamo essere onesti non era vero e sono state invenzioni Sarri l'hai contattato in quel momento se ti avessi detto sì tu l'avresti ripreso ti ha detto no e gli hai detto magari ne riparliamo non ne hanno più riparlato hanno altre idee ma soprattutto altre idee Sarri che sa che tornando qui avrebbe soltanto a Roma e cosa ha fatto allora il Cagliari mi fate vedere un po' di immagini del Cagliari che è stato ancora una volta vittorioso nell'ultima uscita così come aveva fatto firmato il con la Roma come aveva fatto il blitz in casa dell'Udinese insomma squadra molto fastidiosa squadra che nell'ultima partita con la Roma si è schierata con un 3-4-1-2 dove in difesa hanno schierato Godin centrale Carboni Braccetto di sinistra e Cepitelli a destra Nandez sta facendo l'esterno di centrocampo dei quattro con Marin e Deiola in mezzo al campo e a sinistra Gianna Colis Gianna Sì va bene due anni davanti hanno giocato Pavoletti Davanti hanno giocato Pavoletti e Simeone con Gioao Pedro che ha fatto il 3-4 però occhio perché il Napoli avrà problemi nella gestione di questo calciatore perché è un giocatore che è vero che parte da 3-4 ma molto spesso si alza sull'esterno di sinistra e il gol lo fa proprio partendo da là quindi è un giocatore ibrido un giocatore libero che non ti dà un riferimento io non credo che faccia questa volta Gioao più Pavoletti più Simeone anche secondo me troppo esagerato secondo me farà Gioao più uno dei due perché gli tornano in Golan e quindi farà una cosa perché con la Roma è un conto con Napoli credo sia un altro ti dico però che se c'è da trovare un reparto meno forte a me in difesa Tolto Codin non mi fanno impazzire sono giovani non sono velocissimi sono freschi concedono tanto Cosimeno Mertens per me da da tre domenzi allora te ne faccio un'altra Manolas o Rachmani Manolas Manolas bene Rachmani bene bene sai perché Manolas mi permette di spiegarlo un'altra Giuseppe o Mario Rui no per me Mario Rui per me Mario Rui io non no no non fare sul personale no a me Mario Rui non piace proprio per me è un giocatore che ha una discreta riserva in un club per chi arriva dalla destra può giocare Mario Rui per il semplice fatto che magari io preferisco Isai a sinistra pure pure a sinistra pure contro il Cagliari in casa ma pure contro la Rabino Leff molto chiaro è un fatto personale molto chiaro vediamolo un po' questo incrocio da calendario che è molto interessante visto che l'Atalanta ha 68 punti a 66 ci sono Napoli Juventus e Milan con la Lazio che il 18 maggio recupererà il match con il Torino e guardate un po' questa è la situazione attuale avevo detto del Benevento il Benevento comincerà la sua crociata il Benevento deve fare Napoli sì però comincerà la sua crociata dalla trasferta di Milano poi dopo in casa con il Cagliari poi dopo a Bergamo con l'Atalanta poi il Crotone in casa e il Torino è quello ed è giusto che sia così però deve sperare anche nel Napoli perché secondo me non deve fare la corsa sul Cagliari o sul Toro ma sullo Spezia ne parlavamo prima con Carmine perché lo Spezia lo vede un attimo in discesa anche se mi aveva fatto impazzire per qualche tempo e poi ti ripeto il Napoli arbitra un po' del Benevento in queste ultime partite qua in questa situazione vedete gli incroci la Juventus ha nelle sue mani la possibilità di andare direttamente in Champions batte il Milan e batte l'Inter a domicilio non credo possa avere problemi se batte il Milan ci fa una cortesia e poi Sassuolo e Bologna per concludere la sua stagione continuo ad essere dell'avviso che il Milan ha il calendario più difficile io stasera togliendo l'Atalanta vedo Juve e Napoli da ieri cioè vedo Atalanta-Napoli-Juve io penso che il Milan da questo perché poi dopo la Juve va a Torino perché non è che il Torino è subito perché poi ieri Nicola che lo stimo molto a un certo punto mi deve pure spiegare cosa ha dichiarato dopo ha detto se avessimo doveva finire 7-1 questa partita quello veramente ci vuole anche un po' di onestà un po' di onestà intellettuale hai preso due pali otto palloni mi viene a dire un bel gol è un gol fortunato e dai Nico fu bravo e tagli dei capelli sai sono schermaglie ormai non se ne può più a 50 anni di tagliarsi i capelli sono schermaglie da post gara eccola qui Ilaria la recuperiamo dai Ila che siamo quasi siamo prossimi è ancora sigillata cosa porti? è ancora sigillata è la Power Bank perché questo è il momento della PC Distribution SPA che come sapete perché ve lo ricordiamo ogni volta tutti gli argomenti che il Napoli porta mi sono divertito che porta qui a Canale 8 ci fa piacere straripante mi fa piacere che in maniera patriottica ti sia divertito d'altronde d'altronde una questione di regioni una questione di regioni sì anche se la Puglia più città no io io li adoro cioè io impazzisco perché poi sta cercando di recuperare recuperare a fine trasmissione ti racconto un aneddoto finiamo ci ha provato magari resteremo qui dopo la sigla grazie a Carmine Martino Salvatore Cagliazza buonanotte buonanotte a tutti grazie a Ciccio Montervino un grosso in bocca al lupo grazie ragazzi domani e Alfredo Pedulazzo grazie a voi grazie a voi grazie a voi e invece abbiamo il tempo di salutare tutti i nostri sponsor Luigi Fusaro Eronix Gruppo Tufano Energas Caffè Aloia PC Distribution ed Arenaccia CRA Group grazie sempre a loro e grazie a voi per averci seguito vi ricordo la replica subito dopo lei e Ilaria Menozzo ciao Ila ci troviamo lunedì per il filo diretto invece domani a partire dalle 17.40 linea calcio sempre qui canale 8 buon proseguimento e soprattutto buonanotte ciao ciao